Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione di TG Sestina. Buongiorno. A Milano si sono concluse ieri sera le primarie del centro-sinistra, una tappa importante verso le elezioni comunali di giugno. Circa 60.000 milanesi hanno espresso la loro preferenza sabato e domenica. E dalle urne è uscito vincitore Beppe Sala. Sarà lui, tra poco più di quattro mesi, a sfidare il candidato del centro-destra, che però ancora non ha un volto. In collegamento per noi c'è Marta Latini. Sì, dopo un mese e mezzo di campagna elettorale, il centro-sinistra milanese da ieri sera ha il suo candidato sindaco. Giuseppe Sala, manager, commissario unico di Expo, è il vincitore con il 42% dei voti. Dietro di lui Francesca Balzani, l'attuale vice-sindaco, arrivata seconda con il 34%, poi Pierfrancesco Maiorino con il 23% e infine Jannetta, l'outsider, con le sue 443 schede. Al termine dello spoglio elettorale, grande festa al teatro Elfo Puccini. Vediamo come è andata nel servizio. Heroes di David Bowie è la canzone che Giuseppe Sala aveva scelto come colonna sonora della sua campagna elettorale. Ed è la stessa che risuona nel teatro Elfo Puccini, dove viene proclamato vincitore di queste primarie, con più di 25.000 voti ottenuti. Dietro di lui, nell'ordine, Francesca Balzani, Pierfrancesco Maiorino e Antonio Jannetta. Devo dire che ho capito soprattutto una cosa. Poi verrà il programma elettorale, verrà il nostro sapere stare insieme, ma la cosa che ho capito è l'entusiasmo e la passione che c'è per la politica in queste città. Sala è stato sempre considerato il candidato più forte, quello voluto dal premier Renzi, che ieri l'ha chiamato facendogli un in bocca al lupo. Sala ha vinto ma non ha trionfato, è l'analisi di queste ore. Prima di tutto per l'affluenza. 60.000 elettori sono andati alle urne, 7.000 in meno rispetto alle primarie del 2010. E poi perché lo stacco rispetto alla seconda classificata, Francesca Balzani, non è molto ampio, circa 5.000 voti. Anche Pierfrancesco Maiorino si dice soddisfatto del suo risultato, un 23% che corrisponde a quasi 14.000 voti. Giannetta, invece, l'outsider, arriva ultimo e replica, ironicamente, di aver sbagliato forse qualcosa. Ora i quattro, da sfidanti, dovranno diventare alleati. E' questo il messaggio ribadito dal sindaco uscente Giuliano Pisapia nel suo intervento finale. Bisogna scrivere un programma unito che tenga dentro le idee di tutti, in vista dell'appuntamento più importante. Quello fissato per giugno, quando si terranno le elezioni amministrative contro il candidato, ancora incerto, del centrodestra. Marta, ma secondo te Maiorino e Balzani, se avessero unito le forze, anziché candidarsi l'uno contro l'altra, Sala avrebbe vinto comunque? Beh, certo, questa sicuramente è una delle tante grandi domande che è circolata in questo mese e mezzo di campagna elettorale. Ma sicuramente una risposta a questa domanda l'hanno fornita un po' entrambi i candidati ieri sera, quando hanno commentato i risultati dello spoglio. Maiorino ha detto che non è possibile fare una somma algebrica dei numeri, quindi ha sottolineato che le rispettive percentuali sue e della Balzani non vanno sommate automaticamente, perché altrimenti il discorso apparterebbe piuttosto al campo della fantapolitica. Certo, bisogna dire che l'assessore al UEF, appunto Maiorino, è stato sempre piuttosto freddo rispetto alla possibilità di un ticket, cioè alla possibilità di un'alleanza appunto tra lui e la Balzani per correre insieme contro il candidato Giuseppe Sala. Dal canto suo la vice sindaco Balzani ha voluto appunto dire la sua, esprimere la propria opinione e completamente opposta rispetto a quella appunto di Maiorino, ha detto testualmente sono molto rammaricata, fino all'ultimo giorno ho continuato a ripetere a Pierfrancesco che la porta era aperta, non è stato possibile e tra le tante realtà dei numeri c'è anche questa. Per me e per molti milanesi è una nota di rammarico. Ecco, come vediamo appunto le due visioni di Balzani e di Maiorino rimangono diverse e piuttosto nette nella loro diversità anche all'indomani dei risultati elettorali, quindi probabilmente questa unione non si poteva realizzare, insomma non c'erano repremesse per attuarla in modo efficace e appunto soprattutto vincente. Appuntamento elettorale che appunto vi ricordo è stato seguito costantemente dalla nostra scuola, la scuola di giornalismo Tobagi e soprattutto dal nostro sito dove potete trovare aggiornamenti, maggiori informazioni e approfondimenti. Vi restituisco la linea da qui a tutto. E adesso passiamo alla drammatica vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso al Cairo. Si sa ancora pochissimo sulle sue ultime ore nella capitale egiziana. Gli ultimi aggiornamenti da Chiara Baldi. Ucciso per motivi politici. Secondo la procura di Roma Giulio Regeni è stato ammazzato perché i suoi assassini pensavano avesse informazioni, che lui però non aveva. Regeni non era una spia. Il ricercatore italiano, che scriveva per il manifesto sotto pseudonimo, era un militante politico delle opposizioni al regime di Alsisi ed era controllato dai servizi segreti egiziani. Regeni è scomparso intorno alle 21.30 del 25 gennaio scorso ed è morto circa dieci ore dopo per le indicibili torture. Le unghie dei piedi e delle mani strappate, i colpi inferti al torace, alle cossele e alla schiena. Letale, secondo l'autopsia del professor Vittorio Fineschi, è stato il colpo al midollo spinale, che ha causato la frattura di una vertebra cervicale. In attesa dei funerali, che per il ministro dell'Interno Angelino Alfano potrebbero anche essere di Stato, ieri a Fiumicello, paese friulano di Regeni, si sono radunate 2000 persone in una fiaccolata in nome di Giulio. Oggi il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, su Repubblica, assicura che l'Italia non si accontenterà di una verità di comodo sulla morte di Regeni. A Il Cairo sono stati inviati funzionari investigativi del ROS e della Polizia affinché partecipino alle indagini. Vogliamo che si individuino i responsabili e che siano puniti in base alla legge, ha detto Gentiloni. Restiamo agli esteri. Non solo il caso Regeni, ma anche la Corea del Nord, nelle preoccupazioni di Gentiloni. Domenico, cosa ha detto il ministro sulle recenti esercitazioni militari volute da Kim Jong-un? Hanno messo a rischio gli equilibri mondiali e regionali. E questo è il commento del ministro degli esteri Gentiloni. Dopo il lancio di un missile da parte della Corea del Nord, missile che sarebbe successivamente esploso nei pressi di un'isola appartenente alla Corea del Sud. Si tratta della seconda grave provocazione da parte del governo di Pyongyang dopo il test nucleare condotto lo scorso 6 gennaio. È durissima la reazione da parte di Seoul. Infatti la Corea del Sud, dopo aver ridimensionato l'effettiva efficacia del lancio e del test militare condotto da Kim Jong-un, ha definito comunque inaccettabile il suo comportamento, augurandosi delle pesanti sanzioni da parte dell'ONU. Infatti anche Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha invitato appunto la Corea del Nord a cessare qualsiasi tipo di provocazione, ricordando come queste violino apertamente le risoluzioni dell'ONU. Ma se ci si poteva aspettare sicuramente la condanna da parte della Corea del Sud e quelle successivamente arrivate dagli Stati Uniti e dal Giappone, arriva a sorpresa un'altra condanna, quella di uno storico alleato della Corea del Nord, ovvero la Cina. Pechino infatti esprime il proprio rammarico per l'insistenza coreana nell'utilizzo di tecnologia missilistica e balistica a dispetto delle disposizioni dell'ONU. Condanne che però non sembrano preoccupare più di tanto il presidente Kim Jong-un e la Corea del Nord, il quale fanno sapere che continueranno in ogni caso i loro esperimenti militari. Da qui è tutto, vi restituisco la linea. E torniamo in Italia, dove si entra nella settimana decisiva per la legge sulle unioni civili, che riconoscerebbe oltre alle convivenze di fatto anche i diritti delle coppie omosessuali per la prima volta nel nostro paese. Lo scontro politico su questo tema passa anche dai social network. In collegamento per noi Cecilia Mussi. Sì, mancano tre giorni al voto segreto di mercoledì 10 che in Senato sarà per il DDL Cirinnai. Sono molte le voci provenienti dai diversi schieramenti politici che si stanno alternando soprattutto su internet. Tra quelle che ha fatto più scalpore nel fine settimana c'è stata quella di Beppe Grillo che sul suo blog ha annunciato la libertà di coscienza per i suoi rappresentanti in aula, scatenando così oltre 2000 commenti sul post. Ed è di questa mattina, proprio poco fa, la sua precisazione, sì per le unioni civili, ma libertà di coscienza per quanto riguarda la stepchild adoption. Oltre a Grillo anche Roberto Formigoni ha voluto farsi sentire, ma questa volta su Twitter, dove l'ex governatore della regione Lombardia ha dichiarato con un tweet che la possibile sconfitta del DDL Cirinnai sta procurando delle crisi steriche gravi su gay, lesbiche, bi, transessuali e checche varie. Il suo tweet non è passato certo inosservato, sono state tantissime le critiche contro l'ex governatore della Lombardia che ha voluto però ribadire e rispondere sempre su Twitter dicendo che accetta le critiche ma non distorsioni della realtà, spiegando che la sua frase era da intendersi non contro dei casi specifici ma con una considerazione generale. Ha parlato anche il ministro dell'interno e il leader NCD Angelino Alfano che ieri ha rilasciato un'intervista a Sky Tg24 dove ha ribadito la posizione del suo partito, cioè il no al DDL Cirinnai a causa della somiglianza delle unioni civili al matrimonio. Ha poi concluso, riferendosi invece al voto di mercoledì in Senato, che se il Movimento 5 Stelle non ha una sua linea e il PD invece lascia tutti a briglie sciolte, c'è il rischio che salti addirittura la legge e ha concluso Alfano questa è una constatazione. Infine, sempre di questa mattina, la dichiarazione invece del capogruppo PD alla Camera, Ettore Rosato, il quale ha dichiarato che il Partito Democratico non è per lo stralcio della legge ma anzi lavora in una maggioranza parlamentare in modo da approvare il testo. Queste sono insomma le voci che si seguono soprattutto sul web e staremo a vedere poi mercoledì come andrà questo voto al Senato e per ora è tutto, vi restituisco la linea. Spostiamoci a Milano dove traffico e smog non sono novità, ma per i residenti di Piazza Wagner la situazione, ormai da molti anni, è indivibile, soprattutto nelle ore più trafficate, al mattino e alla sera, quando si va e si torna dal lavoro. Federica Villa è andata sul posto per noi. Siamo in Piazza Wagner, sono le 18 e il traffico come vedete è intensissimo, è all'ora di punta. Da questo principale snodo della città di Milano le macchine escono per raggiungere l'A4 e entrano nella direzione opposta per raggiungere il centro città. I semafori sono moltissimi, ma paradossalmente non aiutano. Infatti proprio al centro della piazza si crea un vero e proprio ingorgo. Claxon che suonano e traffico impazzito. Alle 8 del mattino e dalle 6 di sera in poi la coda di macchine c'è sempre. Un problema di viabilità certo, ma anche di inquinamento. Lo dice la torretta Arpa posizionata a pochi chilometri da qui, in piazzale Zavattari. La zona di Wagner per tutto lo scorso gennaio, per poco non ha superato la soglia massima di 200 mg per metro cubo di biossido di azoto. Io vivo qua da sempre e ogni volta che devo passare da questa piazza so che devo uscire di casa prima, che io sia in macchina, a piedi, in autobus, perché qua è sempre un ingorgo. La viabilità problematica ha attirato anche molte lamentere da parte di residenti e commercianti della zona, spesso costretti a lunga attese per salire sull'autobus o per attraversare la piazza in macchina. Io lo percepisco molto affollato, penso che sia più affollata di macchina in questa zona, mentre a volte sono lì che non riesco a muovermi in tempo. Passiamo ora allo sport. Notte in bianco per gli appassionati di football americano, che hanno seguito la diretta della finale del campionato statunitense, il cosiddetto Super Bowl. Un evento sportivo certo, ma anche di costume, che ha richiamato davanti allo schermo quasi un miliardo di spettatori da tutto il mondo. In collegamento per noi, Chiara Piotto. Sì, l'hanno chiamata l'edizione d'oro del Super Bowl, la cinquantesima, che si è giocata ieri a Santa Clara, in California. Il titolo quest'anno va ai Broncos di Denver, che hanno battuto 24 a 10 i favoriti, i Carolina Panthers. Una partita di cui i tifosi non sono molto soddisfatti, perché i quarterback delle due squadre, Cam Newton e Piton Manning, non sono stati all'altezza delle aspettative. Soprattutto Manning, considerato il quarterback più forte di tutti i tempi, che è stato accusato di aver fatto il minimo indispensabile. Anche lo show durante l'intervallo è stato, diciamo, non ottimale. Quando Katie Perry era entrata in campo l'anno scorso a cavallo di una tigre gigantesca, aveva sicuramente fatto una migliore impressione. Quest'anno a cantare sono stati chiamati i call play Bruno Mars e Beyoncé. La regina del pop ha presentato il suo nuovo singolo, Formation, ed ha attirato l'attenzione dei media facendo uno scivolone durante la sua coreografia, riuscendo però subito a risollevarsi. Lady Gaga, invece, in tuta di pelle rossa fiammeggiante, è stata scelta per intonare l'inno americano prima dell'inizio del match. Ma veniamo adesso allo sport italiano, con gli sviluppi del campionato di Serie A. Continua il testa a testa tra le prime in classifica, Juventus e Napoli, dopo aver vinto entrambe rispettivamente contro il Frosinone e il Carpi, si scontreranno sabato 13 febbraio in quella che è attesa come una vera e propria resa dei conti. Pareggiano invece sia l'Inter che il Milan, mentre la sfida tra Roma e Sampdoria si è chiusa 2-1. E concludiamo con una notizia dal mondo della pallavolo. Quella di ieri è stata una giornata decisiva, con Modena che ha conquistato la Coppa Italia 3-0 battendo gli storici rivali di Trento. E dallo sport è tutto, vi ripasso la linea. Grazie Chiara. Prima di chiudere, uno sguardo alle borse. Si preannuncia un altro lunedì nero per i mercati azionari, con Piazza Affari che a mezzogiorno perde circa l'1,7%, ma girano in negativo anche tutte le altre maggiori borse europee. Londra cede l'1,6%, Francoforte il 2,3% e Parigi il 2,1%. Con questa notizia siamo arrivati alla fine del nostro TG. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione di TG Sestina. Arrivederci.